Dolcetto, scherzetto o tutti e due? Ciao a tutti e bentornati da Ombretta su Arte per te, tempo di Halloween che ci piaccia oppure no. E dico così perché da un paio d'anni nel mio condominio si sono trasferiti un paio di ragazzini di origine americana e loro la notte di Halloween girano per i palazzi. L'ultima volta però mi hanno trovata del tutto impreparata e io mi sono sentita molto più che una meggera nel dire loro non ho dolcetti e quindi ho detto quest'anno non mi faccio fregare, lascio qualcosa, non è vero che non avevo dolcetti io ho dato dei dolcetti che mi ritrovavo in casa ma non mi è piaciuta Ombretta di Arte per te creativa e non fa loro qualcosa di carino? Assolutamente no. Anche se noi come famiglia non lo festeggiamo rispetto i festeggiamenti degli altri come pretendo che gli altri rispettino i miei e faccio trovare loro un pensierino per Halloween. Quest'anno con la minima spesa ho creato questi bellissimi pipistrelli portadolcetto e questo simpaticissimo e tenerissimo fantasmino portadolcino eccolo qua e allora spostiamoci di là e andiamo a vedere questo facilissimo tutorial come si fa ed ecco l'occorrente per creare i nostri dolcetti scherzetti per Halloween allora per il primo ci occorrerà un righello, un cartoncino nero, delle forbicine quindi un pennarello bianco che è meglio oppure se lo avete dell'acrilico bianco per il secondo semplicissimo un'anima di scottex dell'acrilico bianco o un pennarello acrilico bianco se usate l'acrilico vi servirà anche il pennello, anche qui delle forbici o delle forbicine un pennarello rosa, un pennarello nero, per entrambi una matita e poi per quest'altro, per quello con l'anima del cartoncino ci servirà o un foglietto, due foglietti di tulle, quelli per i confettini o della carta velina, servirà per infilare dentro i dolcetti il nastrino per sigillarlo e basta così ah, dimenticavo la cosa più importante, i dolcetti iniziamo subito con una matita prendiamo il cartoncino e segniamo una striscia di carta da 3 cm circa la lunghezza non ve la so dire, nel senso che io la farò lunga quanto un foglio a 4 e ritaglio questa striscia, una striscia per ogni pipistrello che vogliamo creare presa una delle due strisce faccio semplicemente un nodo morbido naturalmente quindi definiamo le ali curvandole e poi anche da questo lato facendo 1 e 2 prendiamo il nostro cioccolatino apriamo leggermente il nodino e infiliamolo dentro voilà e adesso con un pennarello bianco due occhetti spiritati e il nostro pipistrello ta-da-da-da un portadolcetti è pronto per essere regalato a chi viene a bussare alla nostra porta no vabbè sono troppo troppo carini passiamo adesso al nostro secondo scherzetto io lo farò con l'acrilico perché mi piace di più l'effetto finito ma voi se volete potete farlo anche con un pennarello acrilico l'acrilico naturalmente risulterà più coprente e quindi lo farà venire un pochettino più rifinito ma perderete più tempo per attendere l'asciugatura totale del pezzo quando sarà bello e asciutto pieghiamolo a metà e facciamo una curvetta sopra così da una parte e anche dall'altra e inoltre pieghiamo a zig zag il fondo pieghiamo tagliamo a zig zag il fondo 1 prendiamo un pezzettino di nastro un puntino di colla e mettiamo la colla sia da una parte che dall'altra nella parte tondeggiante quindi applichiamo il nastrino da una parte dall'altra e chiudiamo teniamo fermo pochi secondi nel frattempo si dovrebbe essere asciugato prendo il pennarello nero faccio la bocuccia o due occhietti molto basici con un pennarello rosa faccio anche le guanciotte così viene un fantasma kawaii e adesso metto un dolcetto al suo interno piego il gonnellino e lo incastro dentro lui sta su perché il volume del tulle lo terrà della carta velina lo terrà ben incastrato ed ecco così due idee paurosissime e semplici semplici per festeggiare halloween con i nostri piccolini e magari divertirci insieme a creare qualcosa di simpatico bene vi lascio alle foto e ci vediamo dopo ciao ooooh Uuuuuh! visto che carini i nostri fantasmini e i nostri pipistrelli e poi da qua esce il cioccolatino è un modo carino per dare loro un'idea creativa e nello stesso tempo un piccolo contentino ne ho fatti tantissimi di pipistrelli perché i pipistrelli sono quelli che andranno via per la maggiore essendo più maschietti quindi un esercito di pipistrelli fanno un po' impressione non è vero io per queste festività che non sono poi neanche festività prediligo questi tutorial semplici a bassissimo bassissimo costo sviluppate la vostra creatività con i pipistrelli e i simpatici fantasmini riempiteli di ciò che preferite mi raccomando io vi aspetto sempre su facebook arte per te per nello bianco su fondo rosso su instagram arte per te per nello bianco su fondo rosso su tiktok arte per te esatto e poi vi aspetto anche su 2q1k e ombretta i miei altri canali youtube e poi vi aspetto tutti in libreria con il ricettario dell'arte il mio nuovo libro la mia raccolta di ricette tutte dedicate al colore agli stucchi alle colle alle paste modellabili alle ricette da restauro alle ricette da decorazione tutto quello che vi può servire per creare sotto forma di ricetta da fare in casa vi aspetto in tutte le librerie vi lascio il link anche per le librerie online dove potrete trovarlo bene basta parlare è ora di andare a creare uno stormo di pipistrelli che terrorizzino la notte di halloween bene da ombretta e da arte per te è tutto alla prossima volta ciao ciao